Ciao ragazzi, benvenuti al RIV di oggi, vi faccio vedere questo breve giro con un paio di trucchetti. Allora, partiamo con la corda di Sol, la nota è Mi, tasto 9 della corda di Sol. Dopo ho questa doppia nota morta, una sulla corda di Sol, sempre all'altezza più o meno del 9, corda di Sol, corda di Re, per finire sul Fa diesis, sempre tasto 9, ma corda di La. Con la mano destra lo faccio tutto con un dito, scendendo, corda di Sol, corda di Re e Fa diesis. Dopo vado ad alternare invece e becco il La e il Si, corda di Re, tasto 7, tasto 9. Concludo, Mi e Re, corda di La, tasto 7, tasto 5. Lo faccio lento. Un. Secondo. Un. Il secondo giro è uguale al primo, tranne il finale che, anziché andare Mi e Re sulla corda di La, prende un'ottava superiore sulla corda di Sol. Tasto 9, tasto 7. Un. Quest'ultima nota viene vibrata. Solitamente con il mezzo tono inferiore, quindi da 7 a 6. Esercitatevi un pochettino, mano leggera. Proviamo a farlo ancora una volta lento. Un. 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 Ok, fatemi sapere se vi piace, se ci riuscite, se avete alcune domande. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao Carlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti